Ciao a tutti, sono Guido Silvestro e sono uno dei docenti del Bachelor of Arts in Music Production and Technology della Gem Academy di Lucca. Con noi affronterai un percorso di studio professionale riconosciuto per diventare un producer, dalla fisica del suono al sound design, dalla produzione di musica contemporanea al mix and mastering. Gem Academy rilascia un titolo finale universitario di primo ciclo in music performance e music production, riconosciuto in tutta la comunità europea e nel Commonwealth. Ognuno dei nostri insegnanti ha un'area di specializzazione, ingegneria, musica elettronica, post-produzione, composizione e arrangiamento. Tutto questo per garantire una migliore esperienza accademica. Le lezioni si terranno alternativamente in classe e in studio di registrazione. Avrai l'opportunità di mettere in pratica costantemente ciò che studierai. Lavorerai con strumentazione professionale e di alta qualità. La crescita di un producer passa necessariamente attraverso la conoscenza dell'armonia, dell'arrangiamento e lo sviluppo delle capacità musicali. Il nostro scopo è quello di formare musicisti capaci di immaginare liberamente le proprie idee e di riprodurle in musica. Ciao, sono Francesco De Santi, fondatore della casa editrice musicale Gabesco Publishing. Lavoriamo con una vasta rete di partner in tutto il mondo e ci occupiamo della produzione di brani per artisti, film, programmi tv e spot pubblicitari. Collaboriamo con la Gem Academy ormai da anni e organizziamo periodicamente dei teamwork con gli studenti per la ricerca di producer e musicisti da inserire nel mondo del mercato musicale.